Salve a tutti amici, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi cercheremo di capire quello che sta succedendo a livello di rapporti di forza internazionali, ma da un'ottica che più che alla cronaca guarda ai processi storici, perché i vari teatri di scontro a cui noi oggi assistiamo sono all'interno di quella che possiamo definire una guerra globale e questa guerra ha la sua radice, questo scontro globale ha la sua radice nel rifiuto da parte di un numero crescente di paesi del ruolo dominante dell'Occidente a guida americana e questi paesi hanno visto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, crescere in maniera sempre più veloce il loro potere economico, il loro potere politico e il loro potere militare. L'incontro che c'è stato recentemente tra il Presidente americano Biden e Xi Jinping negli Stati Uniti a San Francisco mostra la volontà da parte dei due pesi massimi di questi blocchi di stemperare in una certa misura, di rallentare questo scontro per ragioni che sono tattiche e non strategiche, quindi momentanee. Per quello che riguarda gli Stati Uniti le ragioni sono fondamentalmente di natura economica, mentre per quello che riguarda la Cina io credo che si tratti di appunto un atteggiamento tattico che Pechino porta avanti perché consapevole del fatto che il tempo gioca a suo favore e cioè che più tardi arrivi lo scontro diretto più l'Occidente si troverà ad essere debole. Ma perché oggi l'Occidente è così debole? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e capire come i paesi occidentali hanno raggiunto l'egemonia a livello globale. Alla base del ruolo dominante che l'Occidente ha avuto in questi ultimi due secoli c'è la rivoluzione industriale che è avvenuta in Europa con decenni o addirittura con secoli di anticipo rispetto alle altre parti del mondo. Questa trasformazione della capacità produttiva ha consentito ai paesi occidentali di produrre merci, di produrre beni in quantità appunto industriale e con questi sfamare una popolazione che già all'epoca era estremamente numerosa rispetto a altre zone del mondo e che successivamente è cresciuta in maniera esponenziale. Questa maggiore disponibilità produttiva non solo ha consentito appunto di aumentare in maniera notevolissima la popolazione dei paesi occidentali ma anche di armare questo mare di persone con strumenti che per quantità e per qualità erano incommensurabilmente superiori rispetto a quelli degli altri popoli. Quindi l'Occidente ha raggiunto grazie a questi fattori uno strapotere militare grazie al quale è stato in grado di occupare e colonizzare i paesi che disponevano delle materie prime essenziali e di conseguenza concentrare ulteriormente ricchezza, squilibrare ancora di più questo rapporto tra appunto i paesi occidentali e quelli del cosiddetto studio del mondo o meglio di tutto il resto del mondo. Naturalmente questo processo dal punto di vista dei rapporti di forza all'interno dei paesi occidentali non è stato né unanime né pacifico e varie potenze occidentali nelle varie fasi si sono scontrate per l'egemonia prima la Gran Bretagna e la Francia poi la Germania da ultimo gli Stati Uniti e la Russia. La Russia nei fatti potrebbe essere considerato un paese occidentale, i russi sono a tutti gli effetti europei ma Mosca è uscita dal perimetro politico dell'Occidente. Ad ogni modo nella fase in cui il dominio occidentale dopo la caduta dell'URSS ha raggiunto il suo picco è iniziata la decadenza dell'Occidente. Perché? Cosa è successo? Dopo la caduta dell'Unione Sovietica l'egemonia americana sul blocco occidentale e su tutti i paesi satelliti dell'Occidente si è trasformata in egemonia globale ma proprio nel momento di massimo trionfo l'Occidente a guida americana ha iniziato il suo periodo di politico, cioè nei primi anni 90. Che cosa è successo? All'interno degli Stati Uniti una ristrettissima elite di multimiliardari, una ristrettissima elite di uomini soprattutto del mondo della finanza e in parte della grande industria in particolare petrolifera hanno iniziato ad imporre un'agenda agli Stati Uniti e a tutti gli altri paesi occidentali che appunto subivano l'egemonia americana e dell'America erano satelliti. Questa agenda mirava a rafforzare la concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di questi pochi, nelle mani di queste elite e ad evitare che le masse popolari dell'Occidente potessero attraverso la lotta politica imporre una più equa ridistribuzione della ricchezza del prodotto della produzione sociale e di limitare l'influenza politica di queste ristrettissime elite. Il strumento principale con il quale queste elite hanno portato avanti questo obiettivo è stata la globalizzazione. Attraverso la globalizzazione i detentori dei grandi capitali spostavano la produzione dai paesi occidentali, dove il costo della manodopera era molto alto, ai paesi del sud del mondo, ai paesi in via di sviluppo, prima fra tutti la Cina, dove invece il costo del lavoro era molto più basso. L'obiettivo era fondamentalmente intanto quello di ottenere una fetta ancora maggiore della ricchezza prodotta, diminuendo il costo del lavoro, quindi diminuendo la fetta della torta che doveva andare ai lavoratori, ma soprattutto di rendere il potere politico che era nei paesi occidentali democratico e quindi legato al maggior numero di persone piuttosto che alla maggior ricchezza, irrilevante perché tutte le leggi, tutte le limitazioni, tutte le regole che attraverso i processi politici i popoli occidentali potevano implementare non riguardavano i paesi come la Cina, i paesi come l'India o i paesi del sud-est asiatico o del Sud America, dove appunto queste decisioni non avevano nessun impatto. In questo modo in sostanza questa ristrettissima elite poteva guadagnare cifre ancora più sbalorditive e infischiarsene dell'opposizione politica, della volontà politica dei popoli. Contestualmente si doveva portare avanti l'agenda di queste elite, prevedeva una sorta di liquefazione delle società occidentali attraverso un attacco costante e continuo che ancora oggi vediamo a tutti gli elementi di coesione l'identità nazionale, l'identità culturale, la religione, soprattutto la famiglia, cioè a tutti quegli elementi che legano i cittadini insieme trasformando i singoli in gruppi, in strutture organizzate che hanno chiaramente molta più forza, molta più capacità di resistere ai piani delle oligarchie. Questo fondamentalmente per una ragione, queste elite vedevano la minaccia al loro strapotere provenire dall'interno dei paesi occidentali e non dall'esterno, quindi il loro obiettivo era quello di cementificare la loro capacità di dominare le società occidentali anche attraverso la disintegrazione dell'identità sociale di quegli stati. Insieme l'ultimo pezzo diciamo così del loro progetto era l'immigrazione di massa che otteneva, che gli garantiva due ulteriori vantaggi. Il primo, esattamente come la globalizzazione, era quello di diminuire anche qui il costo del lavoro, anche nei paesi occidentali, perché non tutte le produzioni potevano essere delocalizzate. Prendiamo ad esempio il turismo, prendiamo tutta una serie di servizi che non possono essere svolti in Cina, in sostanza un albergo a Parigi tu non lo puoi fare in una provincia cinesi o indiana perché lì il costo del lavoro è minore, è più basso, ma puoi far venire come facchini, come addetti delle pulizie eccetera eccetera indiani, cinesi, sudamericani pagandoli molto meno e mettendo anche nei paesi occidentali in diretta contrapposizione i lavoratori ricchi, diciamo così, i lavoratori che godevano delle conquiste sociali occidentali dei decenni e dei secoli precedenti con dei disperati disposti a lavorare in condizioni enormemente più svantaggiose. Ma c'era un altro elemento essenziale, importantissimo, che secondo me dal punto di vista delle oligarchie finanziarie era ancora più importante e cioè che attraverso la trasformazione delle nostre società in società multiculturali e quindi necessariamente divise e conflittuali si rendeva appunto ancora, si neutralizzava ulteriormente la minaccia che invece popoli uniti, determinati, identitari e legati da rapporti stretti e di coesione sociale, culturale, familiare rappresentavano. Quindi questa serie di trasformazioni che queste oligarchie hanno imposto ai paesi occidentali era volta a appunto neutralizzare ogni possibilità di resistenza dall'interno dei paesi occidentali al loro dominio. Quello che però forse non era stato messo in conto era che questa serie di elementi avrebbero portato a una minaccia per l'egemonia occidentale e quindi per l'egemonia di queste stesse elite che non proveniva dall'interno ma dall'esterno. Che cosa è successo in buona sostanza? È successo che paesi prima irrilevanti o quantomeno assolutamente non in grado di competere con gli Stati Uniti e con gli alleati occidentali dal punto di vista economico e dal punto di vista militare come la Cina, come l'India, come il Brasile eccetera, hanno iniziato a svilupparsi in maniera velocissima. Attraverso la globalizzazione, quel gap iniziale che si era creato tra i paesi occidentali industriali e i paesi invece del sud del mondo si è ristretto velocissimamente fino a scomparire. Oggi paesi come l'India, come la Cina, come la Turchia, come l'Iran sono potenze industriali e tecnologiche e di conseguenza anche economiche e militari. Non solo, questi paesi hanno visto, grazie al miglioramento velocissimo delle loro condizioni di vita, anche un aumento vertiginoso della popolazione. Mentre i paesi occidentali che seguivano l'agenda delle elite neoliberiste hanno iniziato a vedere calare drasticamente dagli anni Sessanta in poi il tasso di natalità e quindi non solo le popolazioni sono diventate in proporzione meno numerose, molto meno numerose rispetto ad altre aree del mondo, ma anche molto più vecchie. Non solo, i giovani, quei pochi che ci sono, non solo sono enormemente più fragili dei loro coetanei delle altre zone del mondo e enormemente meno capaci di sopportare le difficoltà di uno scontro, ma non si identificano per nulla nelle comunità nazionali di appartenenza, anche perché sono stati cresciuti con con l'input di considerare esclusivamente la propria individualità e di considerare la nazione, il popolo come delle cose inesistenti o addirittura dei disvalori. E per quello che riguarda invece i supposti valori occidentali che sarebbero chiamati a difendere, come la democrazia, sono perfettamente consapevoli che sono un inganno. Sanno benissimo che il voto non determina affatto le scelte fondamentali dei loro paesi, che loro non contano nulla, che queste scelte vengono prese in ristretti ambiti estranei alla democrazia e che oltretutto da 30 anni a questa parte queste scelte sono diametralmente opposte ai loro interessi e hanno portato a un peggioramento costante e continuo delle loro condizioni di vita e delle loro prospettive per il futuro. Come se non bastasse una quota dei giovani occidentali, una quota molto considerevole dei giovani occidentali, sono immigrati che provengono da quelle aree del sud del mondo che oggi si rivellano al dominio occidentale e non solo non sono disposti a combattere per l'Occidente, ma casomai sono disposti a prendere le armi contro l'Occidente. Di questa realtà ormai si sono accorte persino quelle classi dirigenti occidentali che per 30 anni sono stati strumento dell'agenda delle oligarchie finanziarie al potere in Occidente. E oggi queste stesse classi dirigenti che per 30 anni ci hanno raccontato che la storia era finita, che la globalizzazione era un grande vantaggio e che l'immigrazione doveva essere considerata un'opportunità e una risorsa, ci dicono invece che siamo di fronte a uno scontro, parlano di debolezza di un Occidente che odia se stesso, ci dicono che bisogna limitare l'immigrazione perché altrimenti rischiamo di far arrivare centinaia di migliaia di persone che odiano Israele e appoggiano Hamas. La verità è che quello che queste classi dirigenti e che le oligarchie che le hanno create temono è il saldarsi del blocco dei paesi emergenti con i cittadini comuni dei paesi occidentali che punti a cancellare non il ruolo dell'Occidente nel mondo ma a portare a un mondo multipolare dove l'Occidente possa liberarsi di queste elite globaliste che lo hanno controllato e attraverso il controllo dell'Occidente hanno dominato il mondo. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.